Per gestire la mia attività Per il lavoro Per me Per il mio negozio Per informarmi Per seguire i miei seminari Per il cloud computing Per la virtualizzazione Per sviluppare i miei applicativi Per fare acquisti online Per fare affari imperdibili Per rimanere in contatto con i miei amici in rete Per giocare online Per seguire la mia squadra del cuore Per i miei libri, per la mia musica Per organizzare i miei viaggi Per vedere le offerte della concorrenza Controllare le vendite Mandare promozioni ai nostri clienti Per sviluppare il mio e-commerce Per sviluppare analisi di mercato Per fare business Ma non solo Per lavorare Per divertirmi Per migliorarmi la vita Ok, grazie, ciao, ciao, ciao Per temporare Per navigare! Per appliance Iscriizate Per